La brand ambassador del marchio Kia Sportage si rinnova nel look uno sguardo nuovo con questi gruppi ottici rivisitati, fari completamente a LED la calandra a naso di tigre, ma questi sono solo alcuni degli accorgimenti Ed eccoci a bordo di nuova Kia Sportage Ho scelto la versione 2000 con il rivoluzionario motore che adotta la tecnologia Mid Hybrid Di che si tratta? Beh, di questo abbinamento del motore termico con il motore elettrico Insomma, con Sportage entriamo nel mondo dell'ibrido Ah, non è che finisce di produrre motori diesel Anzi, continuerà a farlo per il futuro sempre più sofisticati e rispettosi delle norme vigenti Ma vuole accontentare quel pubblico che ha anche la ricerca di un motore ibrido Un motore intelligente che lavora in sinergia con quello termico, quindi elettrico e termico Insieme soprattutto adottano questa tecnologia che ti permette di risparmiare i consumi fino al 7% E anche adesso, voilà, che siamo fermi al serraforo Il motore non adotta la tecnologia Start & Stop Ma ne adotta uno simile, ovvero quando si ferma, pensate, funziona ancora e il sistema va in ricarica Quindi non è che siamo fermi e non accade nulla Continua a lavorare per mantenere sempre costante la situazione dei consumi e la funzionalità del motore L'interno, come potete vedere, è un interno elegante, molto elegante Con questo abbinamento nero con le cuciture rosse che incorniciano i sedili Ma il colpo d'occhio principale, oltre al luogo volante e alla plancia, beh, è sicuramente il sistema touch screen Con questo schermo da 7 pollici, cioè anche da 8 Ancora più affinato, quindi molto più efficace Per avere una navigazione sempre sotto controllo e per essere sempre connesso col mondo Perché sono stati aggiornati anche i sistemi di interfaccia con i vari telefoni Le altre motorizzazioni sono state rivisitate, siamo rivise anche quelle benzina Interessante, sulla versione 1.6 Finalmente, per chi ama che terreno in più sconnessi, arrivano le 4 ruote motrici Ma non è tutto, sparisce l'entry level e arriva la gamma business, davvero completa Grazie a tutti